musica 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 cioè non è possibile ma dove cavolo sono? mi hanno tutti paura? oh ma io secondo me sono sai dove? dove? aspetta che prendo e appunto vibor secondo me sono a tutta l'aeroport sparano sparano dove cazzo è qua? dove dove dove? direzione direzione ovest ecco la kill è quello che mi ha ucciso prima e lo vedo lo vedo aspetta aspetta se lo vedo aspetta aspetta eccolo eccolo l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso bene bene basta basta non sparare l'ho ucciso l'ho ucciso bene 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 l'ho ucciso te l'ho detto il suo posto è fantastico adesso sa che siamo qua provi a andare a prendere la killi aspetta un attimo c'ho la killi vediamo se viene qualcuno magari dall'aeroporto che ha sentito gli spari si c'ha la killi voglio la killi voglio la killi sto scendendo eh provo a scendere se mi fa prendere la scala ok parimi il culo eh veloce però scendi muoviti madonna mia che lente che hai i sandali poraccio c'hai i sandali capito aspetta mi butto dalle scale non mi faccio niente ok la c'è il cadavere vado a prendere il lui vai vai l'ho ucciso male l'ho ucciso male lo volevi uccidere è bene? no 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 è bene no ecco oh ma dove cazzo è la killi oh con un'utazza alla miseria forse danno sul nastro ok 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 no la killi è con premium è che palle oh però l'ammatura resistenza agli esplosivi bene ok ok c'ho lo zaino portatutto? zaino portatutto? no no tu ce l'hai? zaino da caccia c'ho vabbè la killi è quella da premium vengo da te velocemente oh ma com'è caro? vengendo su un pestone? dai venite metto uno? si arrivo aspetta eh cazzo non ho la mira stabile non ho la mira stabile arrivo ma dove cazzo è caro? eh sud sud est direzione 122 tipo ok qui ne c'è spuglio si ok là in fondo preso l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso mamma mia ragazzi fantastico metto il cespuglio cioè ho visto no perché vedevo gli spari ho capito che era laddentro e l'ho ammazzato grandioso manchia di kille Piero fantastico perché non lo vedevo completamente io cioè era nascosto dentro il cespuglio e c'erano gli spari stavo sparando tipo all'aeroporto verso l'aeroporto ma io l'ho intravisto da lontano neanche con Mirino eh l'ho intravisto così vedevo tipo una cosa che si muoveva un pochettino fantastico yeah che kille grazie